Mario, com'è andata la Runner 4.5 Experience? Esperienza bellissima, ho imparato tante cose e Simone è numero uno. Bravo, non l'ho pagato, anzi paga lui per venire. Francesca, era a Bologna, Runner 4.5 Experience, prima edizione com'è andata? È un gran casino. Ah bene, quindi è andata benissimo. Perché purtroppo correvo male, ma adesso me ne sono resa conto. No, ma non così male. Adesso come corri? Adesso migliorerò. Sono sicura che migliorerò. Allora chi è saluta? Assolutamente sì. Bene, allora ti aspetto alla prossima edizione. Certo. Ciao, grazie. Clara, che viene anche tu dalla provincia di Latina, com'è andata la Runner 4.5 Experience? Allora, come prima esperienza è stata magnifica, posto bellissimo e coach preparatissimo e disponibilissimo. Ecco, brava. E non l'ho pagata neanche lei. Grazie. Prego. Allora, Fabio, che viene dalla provincia di Latina, com'è andata la Runner 4.5 Experience? Molto bene, molto bene. È la mia prima experience e mi sono trovato benissimo con un grande istruttore Simone. Ti aspetto all'anno prossimo, 2020. Va bene. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, Milano, Bologna, Roma. Com'è andata la Runner 4.5 Experience? Bellissimo. Benissimo. Bello, da ripetere. Forse bellissimo. Per me è la seconda. Anche per me è la seconda. Bene. Perché per chi comincia bisogna farla, perché così non sbagli. Esatto. Grazie mille. Allora, Nicola e Sara, com'è andata la Runner 4.5 Experience? Bene. Non si vede Nicola, dov'è? Bene. Bene, vi siete divertiti? Sì, ho imparato un sacco. Tornate l'anno prossimo? Sì. Bene. Che, segnato, anche loro. Non metto neanche i post ormai. Manuela, che sei venuta da Udine in treno fino a Cervia. Come è andata? Tre treni. Tre treni. Guarda, ne valse veramente la pena, sono contentissima. Ho scoperto che non so correre, ma che posso fare, c'è da per imparare. Cioè, sembra che io demoralizzi le persone, ma non è così. No, 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 ci rende inconsapevoli e felici. Allora, abbiamo qui Chiara da X-Factor, Chiara Galeano. Beh, spiegatamente da X-Factor. Com'è andata la Runner 4.5 Experience? È stata una bellissima esperienza. Ho scoperto che corro un po' male, però grazie a suggerimenti Simone spero di migliorare anche questo. Sembra che li demoralizzi. Ma no, ma non ci rimane. Grazie, Chiara. Margaret. Allora, la cosa bella, oltre che impari a correre, e io sono passata da 5 km a preparare una mezza e conoscere tante persone completamente diverse che corrono con obiettivi diversi e imparare da tutti, divertendosi. Bellissimo, grazie mille. Figura. Allora Stefano, Runner 4.5 Experience? Molto positiva. Devo dire che dopo 50 anni si può imparare ancora qualcosa. Dopo 50 anni? No, 50 volte. Beh, complimenti. E complimenti per l'organizzazione, è tutto perfetto. Grazie, grazie mille. Come è andata la Runner 4.5 Experience, Luca e Maria? Molto bella, un'esperienza veramente da provare, per capire anche che l'esperienza non fa la tecnica, bisogna imparare veramente anche la tecnica per correre meglio verso il sistema. Mille cose da ripare, da sistemare, abbiamo imparato tante cose nuove. Grazie a voi. Allora Alessandra, Runner 4.5 Experience, come è andata? Direi molto bene. È stata una bella esperienza per imparare cose nuove, alcune conferme di quello che già sapevo e soprattutto tanta gente simpatica. Questo sì. Eugenia, come è andata la Runner 4.5 Experience? Sarò un prossimo finisher. Bene. È andato tutto bene, qui mi sono trovato benissimo, ottimi consigli che mi serviranno per prepararmi bene e finire. Grandissimo, grazie. Salutiamo. Finiamo l'Experience. Guarda qua quanti sono con il loro diploma. Segui i social? No. Ok, non mi pareva. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao. Ciao.